dolcetto e pezzetto oh oh, voglio questo no, quel dolce per adolescenti beh, mia sorella è un adolescente su ok che c'è? adoro Halloween questo reggiseno è così fastidioso molto meglio ora sono pronta per la scuola sono pronta anch'io è il mio primo giorno di scuola evviva su, su svegliati, svegliati ragazze, non dimenticate di pulire la camera sì, mamma ho un'idea fatto la mamma dice solo l'essenziale oh 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 ah Marvel, Steve, Charlie, Paul, Mario, Joe, Kelly tu aspettatemi qui, tornerò presto tornerò presto, amore mio ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa dov'è tu, Zaino, Siu? oh, cacchio penso di avere tutto ciò di cui ho bisogno ah Bob, Sara Titi George tutti i miei amici sono qui ci divertiremo così tanto ti odio ti odio ti odio e tu che diavolo sei? ma io sono quello che ti aiuta con i test giusto e ti odio di meno vado a cambiare classe ti cercavo da sei mesi ho il miglior armadietto del mondo ciao ragazzi io sono Miss Lily facciamo un gioco divertente cosa vuoi essere da grande? Charlie quando i grow up up, up, up i wanna be an actress quando i grow up up, up, up da, da, da i'll play movies, act, act, act when i grow up, up, up i'll be a bat and heal all dogs when i grow up, up, up i'll smell the best ice cream in the world and people will come, come, come and buy what i've got, got, got ben fatto tesoro su cosa vorresti fare da grande? beh, di certo non l'insegnante in pulizione ok posso avere il tuo panino? ok ma io prendo la tua torta e il tuo burrito certo posso avere il tuo succo? ok ma voglio il burrito e la torta va bene vuoi questo succo? no facciamo a cambio oh sì molto meglio ehi su usciresti qualche volta con me? no bambino ciao amore come è andata oggi? ho imparato tante cose nuove ora posso essere un'insegnante Sue posso darti un passaggio? no grazie il mio ragazzo passa a prendermi ci vediamo domani oh come sei fortunata andiamo Sue faremo tardi su chi è quella? non capisco perché devi sempre mettermi in imbarazzo ma wow oh oh sei così carina mi servono dei vestiti nuovi mamma posso avere un vestito nuovo degli iPod un cappotto e un cappello? ok vedi che riesci a comprarti 20 dollari mamma sei adulta puoi trovarti un lavoro sai? grazie oh Roby Charlie Roby non di nuovo tu posso giurare di aver visto Sue dov'è? tesoro vieni qui facciamo qualche foto sono una principessa mamma fermati smetti la oh ho molto lavoro da fare chi finisce i compiti per ultimo lava i piatti non è giusto adesso basta andate in camera adesso va bene grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti Mamma, non voglio andare Per favore, mi sento bene Non avere paura, Charlie Il dottore è bravo Charlie, guarda cosa ho per te Oh, dottore, credo di aver avuto un infarto Può controllare, per favore? Strano, molto strano Quando sarò grande sposerò un dottore Anch'io Wow Andiamo, tesoro Ehi, tre, due, uno È ora di andare a scuola Ancora cinque minuti È ora di andare Mi metterò quella tutti i giorni Ma questa cos'è? Ma questa cos'è? Ah, va di moda? Così Niente male La mamma mi ha detto che sono adulta Oh, tu sei la mia piccola principessa Lavarsi i denti Basta e avanza Oh, mi sento come se mi mancasse qualcosa Ah, esatto Questo è per te, mio pica Ops, ci ho provato Ciao, io sono Charlie Diventiamo amici Ciao, io sono Rob Sposiamoci Non preoccuparti, pica Io non ti darò a nessuno A proposito, io sono Sue Odio fare i compiti Ma li farò a tempo di record Sì, ho battuto il record Quattro Di nuovo quattro Un plus one equals two I can count anything for you Two kids passing by Four cars on a line Such concern that I like One can do that I try And I know one more Three plus one equals four Look how good I am at counting Look how good I am at counting Oh, voglio fare anche questa E questa E questa Ho godito a Venezia Sono così stanca Mamma Mi manca la scuola Stai tranquilla, Charlie Te la sognerai di sicuro Tempo di andare a scuola Ma chi prendo in giro? Ragazze, ecco il vostro pranzo Grazie, mammina Una bottiglia d'acqua Hai detto che eri a dieta, no? Due dollari, mamma Beh, grazie Oh, no, 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 no Abbiamo gli stessi vestiti Smettila di copiarmi No, tu smettila di copiarmi Tu smetti di copiare me Battagliatemi nel suddito In 3, 2, 1 Bene ragazzi Quanto fa 7 per 8? Robby? Kitty? Mia? Va bene, fa niente Sue, una domanda Quanti emendamenti sono stati fatti nella Costituzione degli Stati Uniti? Ci sono una ventina di studenti in quest'aula Perché devo rispondere io? Andiamo Charlie Finalmente sono sola con il mio caffè Ehi Sue Fatto Oh no, i tutorial di rimorchio sembravano così semplici Io odio fare sport Due ore e fino all'ora di pranzo non ho altra scelta Saranno le due ore più lunghe della mia vita Punizione Solo io posso mangiare in classe Ho dimenticato che la mia mamma mi ha comprato un nuovo astuccio Questo non mi serve più Oh, ho il cuore spettato Ciao Ehi Ehi Oh Mamma, guarda Oh, sei la bambina più intelligente del mondo Sue Tu che voto hai preso al test? E questo è per il tuo bene Ciao Charlie, sta ferma Ciao mia Sì, certo che posso parlare Sue Fa silenzio O dovrò chiederti di lasciare l'aula Finalmente Cosa? Charlie? La lezione è finita Ti ho cercata ovunque L'insegnante mi ha detto di stare ferma E questa non è nemmeno la prima volta Oh, mio Dio, perché? Cosa è successo? Tra due giorni è il mio compleanno e non voglio invecchiare So io come aiutarti L'ho trovata Cento maschere per avere la pelle come quella di un bambino Oh, no! Oh, no! Wow! Che succede qui? Oh, dove è la mia matita? Mamma, mi dai 100 euro per un paio di nuovi jeans? Ah, li cucirò io stessa! Che strano, sono fighi! Grazie mamma! Ops! Papà! Papà, mi dai 100 euro per dei nuovi jeans, ti prego! Tesoro! Sai il tuo codice PIN? Ops! Ops! Papi, no! Cosa c'è che non va a tesoro? Papà, c'è un topo! Che cosa? Fluffy! Non ti lascerò mai più solo! Non ho paura dei topi! Oh, ti voglio bene! Ti voglio così tanto bene! Oh, nemmeno io, mia cara! È a causa dell'amore! Mamma! Volevo solo dire che ti amo! Ok, mamma! Beh, come vai a scuola? Bene! Meno male che abbiamo parlato! Oh, ma come dorme? Svegliati, tesoro! Ma è domenica, papà! Ops! Lasciamo perdere! Mamma! Hovi un'attrezza come quella in questa foto! Beh, vediamo cosa posso fare! Oh! 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 Mi piace, mamma! Posso fare un'altra? Oh! 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 Charlie! Fammi una seconda treccia! Non dire altro, tesoro! Ah! 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 Semplicissimo! Mi piace! Sono un papà E questo è il pranzo di oggi? Eh... Sì! È troppo! Oh! Cosa? Ah! Ma che diavolo! Dove l'avrò messo? Forse qui? Vediamo! Ah! Magari qui! Papà! 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 Che c'è? Hai visto il mio arricciacapelli? Arricciacosa? Arricciacapelli... Chiedi a tua madre! Va bene! Mamma, hai visto il mio arricciacapelli? Oh sì, ho ancora! Ma come faresti senza di me? Puoi trovarmi anche un ragazzo? Grazie, mamma! Vediamo con chi parla mia figlia! Oh mio Dio! Penso di aver rotto il portatile di Sue! Ehm... No! Oh! Mago dei computer! Oh, falde! Oh! Spostati! Lo farò io! Papà! Mamma! Ma che state facendo col mio computer? Ehm... È solo staccato, vedi? Non sono stato io! Oh! 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 Sono 20 euro! Oh! Eh! Ciao! Nei tuoi primi cosmetici! Mamma, adesso assomiglia a te! Oh! Mi sa che devo cambiare look! Oh! Assomiglia a tua madre! Mua, mua, mua! Ho un regalo per te! Papà, non mi piacciono questo tipo di giocattoli! Oh, va bene! Lo terrò per me, allora! Papà, giochiamo a Nascondino! Va bene! Conta fino a 10.000 e vieni a cercarmi! Ok, conto! Uno, due, tre! 10.000! Papà, ti ho trovato! Oh! Ma ora tocca a me! Uno, due, tre, quattro, cinque! Oh! Ciao, mamma! Cosa stai facendo qui? Stavo giocando a Nascondino con papà! Giochiamo a mamma e figlia! Va bene! E io farò tua figlia e tu sarai la mia mamma! Sì! Giochiamo! Voglio mangiare! Ah! Ah! Voglio mangiare! Voglio bere! Voglio dormire! Ma che cosa hai che non va? Ti sei comportata così per ben quattro anni di seguito! Ah! Mettiti in un angolo e pensa al tuo di comportamento! Mamma! Guarda! Oh! Non diciamolo alla mamma! 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 Accidenti, Sue! Fammi provare! Oh mio Dio, Sue! Cosa ti è successo? Sto bene, mamma! Ti serviranno delle medicine! Oh! Mamma! Papà! Papà! Voglio una mela! Ok! Non osare! Ora puoi mangiarla! Grazie, mamma! Quella pizza era deliziosa! No! Ma quella è la parte migliore! E passami del ketchup! Oh! Ma è vuoto! Ce n'è ancora un po'! Ce n'è ancora un po'! Te l'ho detto! Oh mio Dio, Sue! Se ti vedesse papà! Papà fa ballare anche meglio di Sue! Che cosa vuoi sfidarmi allora? Ok! A volte mi sento così vecchia! Oh! 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 Ok, mamma! Hai vinto tu! Non sto dormendo! Oh! Sapete come ho fatto a capire che non stava dormendo? Fatemi sapere nei commenti qui sotto! Ehi! Psst! Puoi chiedere a Lea di passarmi il suo libro di matematica? Ok! Ehi! Max vuole che Lea gli dia il suo sidro aromatico! Psst! Max vuole toccarti il sedere flaccido! Che cosa? Tu sei un... Tipi di studenti! Siamo qui per acquisire conoscenza da questo corso! Siamo qui per acquisire... Eh? Cosa ha detto? Un unicorno ha mangiato i miei compiti! Sono le nove e cinque minuti! Dove sono tutti? Fon... Ma non ho ancora chiesto di fare niente! Qualunque cosa chieda... Io sono la risposta! All right smart boy, I've got some questions to ask! But before that, I'll take a sip from my flask! All right teach, it's me, your favourite student! Hit me with all the history and I will prove this! Get up in front of the class so we can see you! It's obvious none of them would ever want to be you! Answer my questions and prove it to be true! No one in the class here is smarter than you! In 1961 Russia won, what important race! Yuri Gagarin, first man in space! Okay smart guy who fought in Waterloo! The French against the Brits! Germany too! What did Franklin and a kite do, simplicity? Of course I know, he discovered the electricity! Okay mister, you've got answers galore! Please remind me! What am I teaching you for? Lei insegna perché una volta era giovane con una grande sete di conoscenza. Un buon insegnante non solo plasma gli studenti, plasma il mondo! Le sue lezioni... Ah, vedi come funziona la gravità? Questa è una lezione! Qualcun altro vuole rispondere? Nessuno? Vediamo di cosa tratta la scienza! Scienza? Ma chi se ne frega? Votate per me e non ve ne pentirete! Votate e vedrete! Metterò sedie migliori per tutti! Avremo la pausa pranzo più lunga e niente più test! Faremo di questo posto un posto migliore! Votatemi, sono la migliore! Sapete che cosa fare? Mi chiamo Lea! Su! Lea! 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 Vieni qui signorina! Non puoi fare così! Non pronunciare quelle parole ad alta voce! Presidente, puoi aspettare finchè non sarò eletta? Mi serve per la mia domanda all'università? Nessuno potrà fermarmi! Non sto scherzando! Lea! 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 Ma non è ancora venerdì! Puoi piantarla? Sto cercando di studiare! Smettila! Tipi di studenti! Bu! Ehi! Sì! 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 Ciao Teddy! Stai bene? Muah! Ciao Belviso! Quello è per me! Devo andare! Oh! Oh no! Nooo! Nooo! La gente dice che è difficile essere intelligenti tipo perché studiate così tanto ma non sanno cosa vuol dire essere la ragazza più popolare della scuola! La girls to my left just won't leave me alone And all the boys on my right are trying to get in my phone I take selfies with my besties all night and all day And I have to push right by you if you get in my way It's so hard being popular When everybody wants a piece of you You don't know how it feels to be me so You better leave me alone Oh 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 yeah Sì vabbè! Nora, abbiamo bisogno di te per questa causa del ballo! Vedi? Tipi di studenti! Grande Gatsby! Adoro il Grande Gatsby! Adoro la complessità del personaggio di Jay! Anche io! E amo Daisy ancora di più! Viva! Sei una nerd di Gatsby! Che cosa? Tu sei la mia Daisy e io sono il tuo Jay! Sì! Sì! Mi ucciso! Sì! Sì! Ehi, dormi nella mia classe? Andrai in punizione. Ma c'entra la centrale elettrica di una cellula. Classe, venite in ritardo e poi dormite. In punizione, adesso basta. Basta? Ho detto basta. Pensavo avesse detto basta. Proprio come le piramidi di Giza. Oh sì, mi piacerebbe una pizza. Questa è Giza, con la G. Ho capito, Giza. Qualcuno ne conosce la vetta? Hai una vetta? Che cosa? In punizione. Cara matematica, risolvi il problema da sola. Tu, risolvilo. Mi stai prendendo in giro? Needs this anyway, I'll never use math. All I need to worry about is getting good abs. All that really matters, this body's beautiful. I've never gonna meet equations, you are a stupid fool. Stop pretending you don't like what you see. Nobody here is as beautiful as me. I'm in training to become the toughest in the house. Guarda laggiù. Credo di vedere un topolino. Oh, un topo. Aiuto, aiuto. Ah, non sei più così tosto, eh? Punizione. Mi son perso qualcosa? Il mercoledì si indossa il rosa. Non puoi sederti con noi. Oh, ma che bella giacca. Dove l'hai presa? Veramente. Era di mia madre, da degli anni 90. Veramente così carina. Oh, figo. La giacca più brutta che io abbia mai visto. Scusa, sono in ritardo. Era intenzionale. È un terremoto. Scusa, mi fa male la pancia. Bene. Ciao. Ciao. Sfigato. Battetico reno. Oh, voi ragazzi. Punizione. Calma questi ragazzi. Provaci tu a farlo. Ma è il tuo lavoro. Sì, eh? L'hai voluto tu. Punizione. No. No. Tu in punizione. No. Ascoltami. Tu sei in punizione. È un professore dei miei stivali. Tu andrai in punizione. Signor preside, ti darò una punizione così esemplare che non ricorderai nemmeno il motivo. Punizione. Nella nostra scuola ci sono solo ragazzi top. No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti.